Ed è abbastanza maturo! Partiti! E' in vantaggio Prince Douglas con vicino Moncrown. Seguono East2Kam, Passaggio, Gladius, Julimar, Prinzè, Mystery Ghoul e She's Great. Dopo 300 metri di corsa passa Prince Douglas davanti a Moncrown Maurice Tukam, Passaggio, Mystery Ghoul, Gladius, Julimar e Princess, She's Great. All'inizio della curva Prince Douglas e Moncrown conducono davanti a Maurice Tukam, Passaggio, Mystery Ghoul, Julimar e Princess, Gladius, She's Great. Poco prima dell'ingresso in dirittura e in vantaggio Prince Douglas con all'esterno Moncrown. Seguono Maurice Tukam e Passaggio. I cavalli entrano in dirittura con Prince Douglas in vantaggio lungo la corda davanti a Passaggio per linee interne. Seguono Mystery Ghoul, Julimar e Princess a centropista, Moncrown e Maurice Tukam e sempre in leggero vantaggio Prince Douglas davanti a Passaggio, Julimar e Princess, Mystery Ghoul e Moncrown. Prosegue in vantaggio Prince Douglas davanti a Passaggio, Julimar e Princess e Mystery Ghoul. all'esterno Repinzione peggiorna con Grazie a tutti. Grazie a tutti.